Vediamo perché è scomparso un ragazzo, una persona importante, un marchese. Lazzaro. Fuori dalle acque territoriali italiane. Noi non cerchiamo risposte. Noi non vogliamo puntare il dito contro qualcuno. Stiamo per raccontarvi un sogno azzurro. Sono Vucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1970. Macelleria Asam diventa il coffee shop Asam. Ormai è troppo tardi, guardami, voglio stare con te. Avviene una cosa raccontata? Sì! Ad email! Non ci staco la testa. Rosa è un bambino.